Ancora acque fortemente agitate tra il comune di Teramo e la Team, la società compartecipata dallo stesso comune ha diffidato a firma del presidente Pietro Bozzelli Lente Teramano, questo perché secondo la Teramo Ambiente i versamenti per il servizio sono parziali e stanno mettendo in difficoltà i pagamenti dei dipendenti. Una situazione su cui è intervenuto il sindaco Gian Guido D'Alberto rassicurando i dipendenti della compartecipata. Ho risposto con grande chiarezza e anche con una determinazione rispetto ad un'azione che non abbiamo condiviso, dando una linea molto chiara di abbassare assolutamente nuovamente questo livello di discussione perché innalzare invece la tensione creando allarmismo rispetto ai dipendenti ma soprattutto ai cittadini teramani e questa strada non è quella che noi indichiamo anche in considerazione del fatto e vorrei ricordarlo che oggi il comune di Teramo è praticamente l'unico cliente della società che, come sappiamo, ha perso altri affidamenti e altre commesse e quindi credo che ci debba essere una maggiore attenzione in queste azioni soprattutto quando sono svolte a firma del Presidente che è il referente dell'amministrazione comunale all'interno dell'azienda. Quindi qualcosa non funziona, qualcosa non funziona da tempo. Noi siamo stati molto chiari, al momento non abbiamo ancora nominato, individuato il nostro referente devo dire che quello che sta succedendo sicuramente, come abbiamo detto, impone una nuova riflessione sui ruoli, sulle competenze e quindi ci porterà a proseguire su quella che è la nostra azione.